Il sindaco Alfieri, ponendo la firma sull'ordinanza, punta a mettere fine alla questione dello smaltimento illegale dei rifiuti agricoli pericolosi e non, tramite combustione. Questione che si era fatta sempre più urgente negli ultimi giorni, con un aumento delle segnalazioni di roghi tossici sul territorio capaccese. Con questo provvedimento verranno rese più elevate le sanzioni per i trasgressori, che potranno arrivare fino alla somma di 500 euro, e i controlli saranno più serrati. Inoltre, annualmente, le aziende con un fattorato superiore agli 8 mila euro dovranno presentare all'ufficio ambiente una copia del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi. Per la mancata prestazione ci sarà una sanzione fino a 500 euro, anche in questo caso. L'ordinanza prevede lo smaltimento dei rifiuti secondo termini di legge ed è stato posto il divieto di appiccare i roghi prima dell'alba e dopo il tramonto e di smaltire rifiuti pericolosi e non tramite combustione. Dovranno essere raccolti e smaltiti o a cadenza trimestrale o quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi in caso di rifiuti pericolosi e 20 di non pericolosi.